Oltre 400 uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza sono stati i protagonisti di un maxi blitz nel Parco Verde di Caivano. Una prova muscolare dello Stato all'indomani della terribile vicenda dello stupro di due cuginette di 10 e 12 anni. Lo aveva promesso la Premier Giorgia Meloni bonificheremo il Parco Verde. Ma il bilancio finale non è particolarmente consistente. Tre persone denunciate, un chilo di droga e 44 mila euro in contanti possibile provento dello spaccio, sequestrati. Se si considera che l'area è definita una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, capace di produrre un giro milionario per la criminalità organizzata, il mastodontico impiego di uomini, mezzi e unità cinofile ha avuto solo il pregio di dimostrare che quando si vuole è possibile presidiare il territorio. Nel bilancio viene indicato anche il sequestro di un altarino abusivo collocato nel cuore del Parco Verde. A dimostrazione che gli interventi spot producono poco, questo altarino era stato già sequestrato nel 2020, ma l'assenza di presidio nei tre anni successivi ha consentito la ricostruzione. L'edicola votiva rappresentava il volto di un pregiudicato. Gli investigatori coordinati dal procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, lo hanno rimosso liberando l'area dal manufatto. Singolare il bilancio del sequestro di animali esotici. Gli agenti della Polizia Metropolitana hanno trovato alcuni scoiattoli di prevosti, ma c'erano anche cuccioli di pastori tedeschi. Trovate anche 50 gabbie con uva di uccelli esotici. I proprietari sono stati denunciati per illecita detenzione e maltrattamento al Parco Verde, comunque amano gli animali. Il commento del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caevano, nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici. Affinché non ci siano zone franche, lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del paese e a Caevano ce n'è davvero bisogno.